Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella sala stampa del Centro Sportivo GB Fabri. Oggi siamo qui per presentare l'arrivo di Mirko Antenucci in bianca azzurro. Oltre a Mirko è presente con noi in videocollegamento il nostro presidente, Giotta Coppina, al quale lascio subito la parola per fare gli onori di casa. Prego, Prez, quando vuoi. Grazie Lorenzo. Ciao Mirko. Prima di tutto, voglio ringraziare il capitano di casa. È un buon giorno per Spal, è un giorno molto interessante per me di avere Mirko Antenucci diventare la fondazione del nuovo Spal. Bentornato Capitano, oggi è un grande giorno per tutti noi, un giorno veramente eccitante per me nel dare il benvenuto, il bentornato anzi, ad un giocatore come Mirko Antenucci in bianca azzurro. Un giocatore che sarà la guida nella rifondazione della nuova Spal. Ho avuto il piacere, l'occasione, ed il piacere di conoscere personalmente, cenare con Mirko e sua moglie circa un mese fa qui a Ferrara. Sono rimasto assolutamente colpito dalla sua persona, dai suoi valori umani, dalla sua propria personalità. Ovviamente me l'avevano descritto, mi aspettavo una persona di questo tipo, ma ripeto, conoscerlo è stato veramente una piacevolissima sorpresa per me. Mirko è una persona che ovviamente ha incredibile tecniche quali, ma molto più di tecniche quali. Per me, è una persona che ha una grande humana qualità, che ha realmente stato fatto in gli anni a Spal previously, e che è molto importante per noi, con la nuova fondazione che abbiamo creato, e che Filippo e io abbiamo discutito. Togliere qualcuno con le capacità di leader e di carattere, come Mirko Antonucci, è davvero importante per noi. Mirko è un giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili, lo sappiamo, ma soprattutto è una persona, un calciatore dalle grandissime qualità umane. Questo lo ha dimostrato nella sua precedente esperienza a Ferrara, e siamo certi che potrà essere un vero cardine, una guida nella rifondazione di questa Spal. A tutte le caratteristiche che, insieme al direttore Fusco, abbiamo discusso, appunto per guidare questo nuovo corso, caratteristiche di leadership, caratteristiche che saranno preziose nello spogliatoio del nuovo gruppo che si andrà a costituire. Quando Filippo e io iniziamo a parlare di questo anno a Spal, e di quello che vogliamo, di quello che necessitiamo, di quello che necessitiamo, perché questo team sarà costruito di caratteristiche molto più di più di tutto. Il mio nome, il mio nome, di cui lui è arrivato, e ancora e ancora. Quando aveva parlato, il primo pervoche con Cordo di Carlo, con Mista di Carlo, solo una cosa che ha dimostrato, Mirko. So, you know, it was obvious that this was an important signing for us. But more importantly, it's a great signing for the technical area of SPAL. It's a great signing for the organization. I hope Mirko plans to stay with us for the long term because I would love him to be part of our management when he decides to stop playing, which hopefully won't be anytime soon. And it's also a great day for the fans. And I'm very happy to give this gift to the fans of Ferraro. Quando abbiamo parlato con Filippo, direttore Fusco, delle caratteristiche che questa squadra avrebbe dovuto avere, abbiamo concordato che questa squadra dovrebbe avere un grande carattere, dovrebbe avere più carattere di tutte le altre squadre del campionato. e Mirko, in questo senso, è, come ho detto, la persona ideale per guidare questo nuovo gruppo. Quando per la prima volta ho parlato con Mr. Di Carlo a proposito di Mirko, lui mi ha solo detto, sì, sì, lo voglio, lo voglio. Quindi questo spiega tutto. Mirko è stato, ovviamente, un acquisto importante per noi, un acquisto importante per tutta la società, un acquisto appunto che apre un nuovo corso. Ovviamente io spero che lui possa rimanere con noi veramente a lungo, che un domani possa dare il suo contributo per questa società, anche entrando a far parte del management, anche se spero che affronteremo questo discorso il più in là possibile nel tempo. e comunque sono veramente felice che sia qui e soprattutto sono felice di aver potuto fare questo grande regalo a tutta la città, a tutti i tifosi della SPAL. And just the last thing I want to say before I give this to Mirko is, you know, I very much appreciate intelligence and I very much appreciate a person appreciating education. Mirko Antonucci is one of the rare calcio players, one of the rare football players that really strives to learn every day. As a matter of fact, I think that was one of his great quotes, which was, the most beautiful thing in our life is learning. That comes from Mirko. And Mirko is one of the few soccer players that I know of calcio players that has a degree in psychology. He's a student, he's an intellectual, he's a great athlete and a great leader. So when you think of the one player to start a new project with, that's going to be reliant on very young players, there's no one better than Mirko Antonucci, aside from the great history with SPAL, aside from the meaning and significance to the fans of Ferrara, there's no one with a better resume to start our project with than Mirko Antonucci. I'm very proud and very honored to have him join us here at SPAL. Mirko, benvenuto. L'ultima cosa che voglio dire a proposito di Mirko e che ho veramente apprezzato molto di lui è la sua educazione, ma soprattutto la sua formazione. Nel senso che Mirko mi ha subito mostrato e ho capito a lui che è una persona che non vuole smettere di imparare, che vuole migliorare ogni giorno. e soprattutto Mirko è uno dei pochissimi, dei rarissimi calciatori in attività che ha laureato, ha conseguito da poco una laurea in psicologia. Quindi questo fa capire una volta, se ne fosse bisogno ancora di più, lo spessore umano di questo giocatore che sarà appunto molto prezioso anche per i più giovani all'interno del gruppo per guidare questo nuovo progetto e per aiutare il gruppo a plasmarsi e ad avere un affiatamento sempre più grande. Quindi questo elemento assolutamente mi ha colpito e mi ha dato una conferma in più su di lui. Sono veramente felice che sia qua, so cosa significa il suo arrivo per tutta la città, per tutti i tifosi, una gioia incredibile visto quello che ha scritto lui nella storia della SPAL. Quindi non posso fare altro che dargli ancora una volta il benvenuto e augurargli le miglior soddisfazioni in questa nuova avventura con la maglia della SPAL. Buon pomeriggio. Ciao Press. Ciao Mirko. Grazie per le belle parole che hai speso per me. Sono molto contento, ci siamo conosciuti qualche giorno fa e ho avuto una buonissima impressione. Il tuo entusiasmo, la tua intelligenza, la tua voglia di ripartire mi ha contagiato, mi ha coinvolto quella del direttore, quella di una ripartenza con entusiasmo, con valori, con senso di appartenenza. Penso che queste siano le basi per poter ricostruire e ci tengo a dire che la SPAL che è stata prima è successa qualche anno fa, adesso bisogna iniziare un'altra era, un'altra fase con un'altra società, con altri allenatori, altri giocatori. Mi sento ancora giocatore, come ho detto al Press, vengo volentieri a Ferrara, torno volentieri perché è una città che amo però non torno come un'icona, come una persona a cui la gente vuole bene ma per cercare di incidere e cercare di aiutare il gruppo a lavorare bene, a raggiungere degli obiettivi, il mister, il direttore. Bisogna fare un bel lavoro, non è semplice ma siamo contenti di ripartire. Grazie Mirko, grazie Press. Partiamo con le domande. Prego. Ciao Mirko, ben ritrovato. Ciao, grazie. Sono le telestiense. Lo sai che ti porti sulle spalle una grande responsabilità sia in campo che fuori dal terreno di gioco o dallo spogliatoio. L'ho detto il Presidente poco fa, abbiamo qui il nostro capitano, in tutto e per tutto. Ma io ho sempre accettato sfide delicate e importanti nella mia carriera a prescindere dalle categorie. Ero andato via da Ferrara per andare in C al Bari, quindi ero in Serie A e adesso torno a due minuti dai play-off per andare in Serie A e torno in C. Ma per me non esiste, non c'è categoria ma c'è motivazione, c'è entusiasmo. Quello che mi spinge ancora a 39 anni a settembre è ancora a mettermi in discussione. Quindi responsabilità assolutamente sì, me ne sono sempre prese, ma con molta serenità. Adesso dovete l'anno a Ferrara, ben ritrovato Mirko anche da parte mia. Volevo chiederti se ci puoi raccontare come hai vissuto questo mese, che è stato molto intenso per te. Hai citato poco fa i due minuti della finale play-off, un contratto che è scaduto, la proposta di ritorno a Ferrara, c'è stato qualcosa anche con il Bari. A ruota libera, personalmente, come l'hai vissuto? Ma è stato un mese di riflessione, perché comunque è stata una bella batosta perdere una finale così al 92esimo. Proprio nella vita, voglio dire, i risultati sportivi fanno parte della storia, poi si riparte. Sono stato combattuto, è vero, l'ho scritto anche nel mio post, perché giù a Bari ho lasciato degli amici, un gruppo fantastico, una città meravigliosa. Quindi ero combattuto, ma sapevo che dall'altra parte tornavo in una città che mi ama. So che in questo momento c'è bisogno di me. Non sono il salvatore della patria, assolutamente. Entro in punta di piedi nello spogliatoio, anche se sono il più grande di tutti. Cercherò di dare davvero il mio 100% da tutti i punti di vista al direttore, all'allenatore, al presidente, ai ragazzi più giovani. Ciao Mirko, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Volevo chiederti se conosci già Mister Di Carlo, se avete avuto modo di incrociarvi durante le vostre carriere, se vi siete già incontrati e cosa vi siete detti, cosa ti ha chiesto per questo campionato che sta iniziando? Sì, sicuramente ci siamo incrociati da avversari, sì, quello sicuramente. Non ricordo in che stagione, in che partito onestamente. Sì, ci siamo parlati, ci siamo allenati già due volte, quindi ho avuto modo di iniziare a conoscerlo, è molto carico, mi è piaciuto subito come persona quello che ci ha detto, e sono convinto che insieme potremo fare un bel lavoro. Ecco, al di là di quello che hai detto, che entrerai giustamente in uno spogliatoio alla pari degli altri, sarai comunque un punto di riferimento sia per i tuoi compagni più giovani, ma anche per tutto il vivaio della SPA che, come saprai, avrai seguito, sta ottenendo ottimi risultati. Sei un atleta, è straordinariamente longevo per il ruolo che ricopri, per gli anni che hai, e hai sempre giocato ad ottimi livelli. Qual è il consiglio che dai a tutti quelli che stanno dietro di te con la maglia bianca azzurra? Devo dire che i ragazzi mi hanno sorpreso in maniera positiva. Si stanno allenando benissimo, con motivazione, con forza, anche con entusiasmo, perché non è facile ripartire con entusiasmo dopo una bella batosta. Invece, sia i giovani che i ragazzi che sono rimasti dall'anno scorso più grandi, devo dire che c'è un bel clima e devi avere la passione nel fare il tuo lavoro ogni giorno con il sorriso, perché penso sia il lavoro, tra virgolette, più bello del mondo. Noi siamo onorati, i ragazzi giovani devono tenersi fortunati ogni mattina a alzarsi e poter fare questo lavoro. Penso sia la cosa più bella. Già solo quello ti può dare mille motivazioni. Ecco, te ne faccio un'ultima. Purtroppo l'elettrocessione ha portato, come sempre succede, un po' di fratture, diciamo, fra una parte della tifoseria e la società. Ma ecco, tu sarai un po' anche il mediatore, visto il tuo passato in bianco-azzurro, per ricucire questo strappo e far sì che tutti remino verso il positivo in questa spalla, tifosi e società. Guarda, io l'anno scorso ero in un altro club, quindi non so cosa sia successo, le situazioni che ci sono state. Ora bisogna ripartire con entusiasmo. La nostra squadra deve trascinare il pubblico e il pubblico poi trascinerà noi, perché me lo ricordo, mi ricordo i secondi tempi sotto la curva dove ci spingevano in una maniera incredibile. E deve tornare con lo spirito là, con lo spirito di unione tra la squadra e i tifosi, perché davvero poche volte in carriera ho vissuto una cosa del genere. E per fare questo però bisogna ripartire, bene, con entusiasmo, sereni, con grandi sorrisi. Poi vedremo successivamente gironi, squadre e quant'altro. Mirko, bentornato. Grazie. Anche da parte mia ti volevo chiedere, se non sbaglio hai fatto 15-15 gol negli ultimi due anni di Serie G, giusto? Io ho fatto tre anni di C e uno di B. Una trentina di gol e dieci l'anno scorso in Serie B. Ne ho fatti 21 il primo anno, 15 secondi e 17 il terzo. Ok. E hai giocato quasi sempre la quasi totalità delle partite. Sì. Come piegheresti Antenucci quest'anno? La domanda chiaramente ne so tendo un'altra. Qual è adesso la tua tenuta nell'arco di una partita, di un campionato, vista da te? Come la giudichi? Ma io negli ultimi quattro anni ho giocato 140 partite, quindi sto bene. Poi ci sarà un allenatore che deciderà qual è la cosa migliore per la squadra. Io sono integro, sto bene, altrimenti non avrei accettato una sfida così delicata. Sono a disposizione, sereno. Ci sarà dialogo con il Ministro e poi le scelte saranno ovviamente le sue. L'anno scorso che impegno hai avuto in Serie B? Principalmente giocavi da inizio, giocavi dopo? Sì, ho fatto la prima parte di campionato, l'ho giocata quasi sempre. Poi il mister ha fatto altre scelte, però penso a fine anno non so, ho fatto una 33-34 presenza, non ricordo adesso. Ho segnato 10 gol, quindi... Poi dipende dagli allenatori che hai, dalle scelte che fanno. Io quello che posso dirti è che, ripeto, mi sento bene, toccando ferro, e riparto con entusiasmo. Grazie. Ciao Mirko, con Dercuri e Lo Spallino. Bentornato anche da parte mia. Hai parlato di sfide che ti piace mettere in discussione, ma quando è che hai deciso che era il momento di tornare a Ferrara? Qualche giorno fa. Come ho già detto prima, avevo una proposta dal Bari e dalla Spall, quindi dovevo prendere una decisione. Sapevo che in questo momento la Spall aveva bisogno di me, quindi sono molto contento di essere tornato. Per ridirci un po', è vero che hai scritto le figlie sia a Ferrara che a Bari, un po' fa, quando è stato il momento? Che ho? Che hai scritto le tue figlie alla scuola sia a Ferrara che a Bari? Correva questa voce da un paio di mesi a questo paio. Le voci ne corrono tante, lasciamo restare le voci. No, no, non è vero, assolutamente. Le ho scritte stamattina. Casa l'avevo presa un po' di anni fa, quello sì. Avete altre domande per Mirko o per il Presidente? Pres, do you want to add something? Just a moment, Pres. Andiamo al lavoro e comincio adesso. Perfetto. Grazie mille Presidente, grazie mille Mirko e grazie a tutti per la vostra partecipazione. Grazie mille Presidente, grazie mille Presidente.